e ciao a tutti ragazzi sono alessandro e benvenuti in questo nuovissimo video oggi qui abbiamo un uovo di pasqua marvel spiderman maxi ora apriamo il pieno eccolo qui ora il problema è aprirlo ragazzi ora lo abbiamo apriamolo insieme eccolo qui ragazzi eccolo qui facciamoci tutti un pugno insieme 3 2 1 wow ragazzi che sorpresone apriamolo pugno 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 lo facciamo diventare masseccio quindi gli tiriamo oh tantissimo ragazzi guardate costruiamo insieme abbiamo il super cattivo di spiderman aspetta se lo riusciamo a montare insieme eccolo qui il super cattivo di spiderman eccolo qui poi abbiamo spiderman che ha il suo kart che ora montiamo ok poi qui eccolo qui poi ha delle ragnatele da lanciare guardate ragazzi guardate qui no si deve caricare ecco qua ora montiamo il super cattivo di spiderman ma prima il muro ecco qui ecco qui ora ora lo montiamo insieme eccolo qui eccolo qui eccolo qui tutto il set ciao ragazzi al prossimo video e aspettate un attimo buona pasqua vi do anche della cioccolata visto che siete tanti ve ne do tantissima ciao ciao ciao